Ciao ragazzi, bentrovati in questo video. Nel weekend che appena trascorso ho avuto modo di provare la beta di Call of Duty World War 2, il nuovo code che uscirà il 3 novembre su tutte le piattaforme. Ovviamente la beta era disponibile in questo weekend, quindi dal 25 al 27 agosto, soltanto per i postatori di PS4, soltanto per coloro che avevano preordinato il gioco, che comunque erano in possesso del codice. Ci sarà comunque la possibilità di provare il gioco anche questo fine settimana, stavolta però anche per tutte le altre piattaforme, credo comunque almeno anche per Xbox One, non è più esclusiva PS4 la beta che arriva questo weekend. Ad ogni modo parliamo un attimo del gioco, vi racconto la mia esperienza, vi racconto un pochino le mie impressioni. Dunque, questa beta ha se non sbaglio 4-5 modalità, dunque c'è il deathmatch, c'è il dominio, c'è moshpit, c'è guerra, credo che ne sto dimenticando una, probabilmente ce n'è anche un'altra, però poco importa perché l'unica modalità veramente nuova è guerra. Ho caricato qualche giorno fa un piccolo gameplay dedicato a questa modalità in cui vi ho spiegato un pochino in cosa consiste, vi metto il link qui sopra ovviamente, se voglio andare a vedere il video, andare a vedere, vi gustare il gameplay, vedete un pochino come funziona questa nuova modalità che è comunque la classica modalità obiettivi. Per maggiori informazioni comunque c'è il video. E ovviamente anche la modalità su cui mi sono concentrato di più perché è comunque la novità, volevo capire un po' come funzionasse eccetera. Le mappe invece presenti nella beta erano soltanto due, una era Gibilterra e l'altra che non mi ricordo come si chiama, ma non mi viene il nome scusate, comunque è una mappa ambientata fondamentalmente in trincea. Che vi dirò, forse poco si presta a un gioco come Call of Duty, però in realtà le partite più divertenti le ho fatte proprio su quest'ultima mappa perché si vengono a creare situazioni un po' strane, perché è un misto tra la guerra di trincea e la guerra un po' più moderna. Ma perché capita molto molto spesso di incrociare ovviamente il nemico che corre dentro queste trincea e di accoltellarlo con la baionetta, quindi è anche uno scontro molto più fisico rispetto ad altre mappe. Comunque entrambe le mappe mi sono piaciute molto, non ho notato gravi problemi per quanto riguarda la morfologia delle mappe stesse, quindi sono abbastanza soddisfatto sia di come sono appunto a disegnare queste due location, sia anche proprio per l'ambientazione a livello estetico, diciamo. Mi sono piaciute parecchio. Ovviamente la resa grafica non è proprio il top, vuoi perché è una beta, vuoi perché comunque si tratta di multiplayer, ma credo sia dovuto al fatto che vengo da Battlefield 1 e Battlefield 1 graficamente spacca una scella. Code è un pochino sotto, lo sapevamo già, però il passaggio si nota, sembra quasi un po' di tornare un pelino indietro. Comunque il gioco non è brutto, sia chiaro, non sto dicendo che è un gioco che tecnicamente è insufficiente, assolutamente no, dico solo che venendo da Battlefield un po' lo scalino grafico si nota. Comunque l'aspetto più positivo che ho trovato giocando a World War II è che è un po' un ritorno alle origini per certi versi, perché finalmente si torna al code di cui mi ero innamorato tanti anni fa, quello che avevo conosciuto con World at War, il primo Modern Warfare, o ancora prima magari i vecchi code, code 1, code 2 su PS2, però lì erano solo single player, quindi è già un discorso diverso, io adesso faccio un attimino un discorso che riguarda il multiplayer. Si torna un pochino alle origini perché finalmente sei solo tu, il tuo soldato e la tua arma, non ci sono droni, non c'è gente che vola, gente che fa pirouette sui muri, gente che col jetpack, non c'è niente di tutto questo, che erano delle cose che mi hanno veramente stancato francamente negli ultimi code, tanto da spingermi a abbandonarli poi alla fine. Ci eravamo rotti un po' tutti le scatole di questo futurismo esasperato, anche per questo era stato accolto molto bene Battlefield 1, oltre al fatto che comunque è un gran gioco. Però ci voleva un ritorno alle origini anche per code e secondo me il gioco ha giovato tantissimo di questo ritorno al passato, sia inteso proprio di ritorno al passato della serie, che si è inteso come ritorno al passato proprio a livello storico vista l'ambientazione. E quindi sono rimasto molto soddisfatto perché il gioco non perde la sua velocità, è comunque un gioco frenetico, si gioca a mille all'ora, i ritmi delle partite sono veramente quasi nevrotici, come sono sempre stati, sia chiaro. Però, però, ripeto, non c'è più tutto quel sostrato di roba tecnologica che vola, che muori e non capisci da cosa sei stato colpito. Ci sono poche semplificazioni, ovviamente ci sono ancora le ricompense per le score streak, ovviamente, quindi c'è anche qui l'Uav, c'è anche qui la bomba lanciata all'alto, ci sono sempre queste cose. Però sono molto meno invasive durante una partita. Partita che si regge molto di più sugli scontri d'arma da fuoco e addirittura sugli scontri d'arma bianca, perché, ripeto, nella mappa quella con le trincea, che non mi ricordo come si chiama, capita molto molto spesso di usare la baionetta, o comunque di trovarsi a dover attaccare il nemico corpo a corpo addirittura. Quindi, nel complesso, ho gradito molto il lavoro che Sledgehammer ha fatto. Tra l'altro, sono tre anni che gli sviluppatori stanno lavorando su questo gioco e direi che si vede, perché, comunque, pur essendo una beta, il gioco è già parecchio a posto, non ha grossi problemi anche a livello di server o di gameplay, di bug, cose del genere. Quindi, veramente, veramente un buon lavoro. Sono rimasto molto soddisfatto e vi dirò. Io non ero molto interessato a questo Call of Duty. Un pochino sì, perché questo ritorno alla Seconda Guerra Mondiale mi incuriosiva parecchio e mi affascinava parecchio. Probabilmente lo avrei preso comunque più avanti a prezzo budget, sicuramente a un certo punto l'avrei preso, anche perché sono molto curioso di vedere la campagna in singolo, poi, com'è strutturata. Però mai avrei preso in considerazione l'idea di prenderlo al day one prima di provare questa beta. Ora, non dico che questa beta mi ha fatto cambiare diametralmente idea, nel senso che lo prenderò al day one, sicuramente. Non lo so, però comincio a pensarci, se trovo l'offerta giusta o se in quel periodo avrò 70€ in più da spendere, un pensierino sinceramente potrei farcelo. E comunque sicuramente a questo punto lo recupererò appena avrò la possibilità, perché il gioco è molto interessante e sono tanti anni, ormai credo almeno un paio di anni buoni, che mi sono allontanato dagli FPS. Sì, ok, l'anno scorso ho giocato un po' a Battlefield, ma è stato più che altro un periodo, una fase, durato un paio di mesi e poi l'ho mollato comunque. È tanto tempo che non gioco continuativamente ad un FPS, non dico che questa potrebbe essere l'occasione giusta, però questo code mi incuriosisce, voglio andarci con i piedi di piombo, ma questa beta non mi è dispiaciuta per niente. Farò ovviamente un'altra prova questo fine settimana, anche se comunque la build penso che sarà la stessa, non credo che ci siano stati grossi aggiornamenti, però il gioco mi ha divertito e sono contento di poterci passare su qualche altra ora anche questo weekend. Quindi niente, queste erano le mie impressioni su Call of Duty World War 2 dopo aver provato la beta questo fine settimana. Voi l'avete provata la beta? Fatemi sapere come è stata la vostra prova, se l'avete provata, oppure cosa ve ne pare dai video che avete visto, dalle anteprime che avete letto, eccetera. Insomma, ditemi la vostra su code se lo prenderete o non lo prenderete. Noi ci vediamo come sempre con i prossimi video. Cliccate mi raccomando sulla campanella per rimanere aggiornati e sotto in iscrizione trovate come sempre tutti i social. È tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao!